Corrente in movimento con acqua corrente oggi naturalmente per essere coerenti, un bellissimo viaggio, essendo turista per caso io partecipo ai viaggi soprattutto se sono come nel caso di corrente in movimento pretesto per imprese, il giro d'Italia con una macchina elettrica è un'impresa, è una provocazione e ci porta a prendere atto di tutti gli argomenti correlati al tema dell'energia, nella loro grande complessità. Ecco, io sono molto laico sul tema dell'energia, ho fatto tutto il contrario di tutto, ho fatto il testimonio alla benzina ma ho fatto anche il giro d'Italia senza benzina, siamo andati in giro in barca con le energie rinnovabili e l'idrogeno perché probabilmente la soluzione è una sintesi oculata di tutte le forme di energia. Voi fate questo viaggio bellissimo, c'è la macchina elettrica, il motorino elettrico e soprattutto c'è il furgone ibrido che è una cosa che mi sembra molto interessante anche per il presente, quindi benissimo, avrei voluto fare una tappa ma piove però vabbè, domani ci sarà il sole.